La sfida sindaci ai fornelli la vince la coppia Giovanna Bruno e Antonio De Caro con il piatto denominato notte buia con ostriche e induia composto da troccolo con vellutata di pomodoro, frigitelli, ostriche, caviale di salmone e induia. Primo premio dunque per i sindaci di Andria e Bari battuta la concorrenza di altre quattro squadre composte dai sindaci di Biceglie, Palma Campagna, Martina Franca, Mesagne, Grumo Appu, la Gioia del Colle, l'Aquila e l'Esina. Ciascuna coppia è stata affiancata da chef del territorio una serata all'insegna della cucina, del divertimento ma soprattutto della promozione dei prodotti tipici del territorio sindaci ai fornelli e giunta l'ottava edizione la prima dopo la parentesi covid definita come la gara di cucina più originale d'Italia ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano. A livello personale è una grande soddisfazione perché l'ho vista crescere, vi dico che nelle prime edizioni sono arrivato anche a lavarmi i piatti alla fine della manifestazione, fatta praticamente con mezzi veramente scarsi. Adesso per fortuna abbiamo degli sponsor che ci supportano, hanno capito che è uno spettacolo particolare, è un bel gioco, poi anche un significato, cioè promozione del territorio, non c'è politica. I sindaci in gara si sono cimentati partendo da ingredienti a sorpresa, nascosti in una mystery box con mezz'ora di tempo per la preparazione. Davanti a loro una giuria composta da personalità di alto profilo nel mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese, i sindaci in gara hanno portato sul palco le loro esperienze culinarie con il sorriso e la voglia di mettersi in gioco. Ho imparato qualcosa durante il covid, ho imparato a fare le orecchiette con le cime di rape, ho imparato a cucinare anche la focaccia, la pizza, qualche dolce, però è stato il periodo del covid con le mie figlie che mi hanno aiutato a imparare qualcosa, prima non sapevo fare assolutamente nulla. Ho provato a fare prima del periodo del covid anche le uova, quelle nel tegame, ma ho dimenticato di usare quella antiaderente, di mettere l'olio, quindi sono bruciato tutto. Con quell'esperienza avevo deciso di chiudere con la cucina, invece qualche cosina l'ho imparata col tempo. Mi piace la cucina perché l'associo alla convivialità, alla socialità, quindi alla condivisione. Pietanze molto semplici, una cucina molto semplice, quella ereditata da mia madre, il mio piatto forte personalmente è la parmigiana che non credo sia fattibile realizzare in mezz'ora di tempo. Io sono biscelliese, quindi tolta la focaccia, tolte i sospiri di cui devo parlare comunque a prescindere, noi in realtà fanno parte della nostra tradizione, noi abbiamo un piatto che è fatto con zucchine, patate e siverchi, che sono praticamente il gambo delle zucchine, che è biscelliesissimo ed è uno dei miei preferiti.